Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati sul Brawl Stars, signori miei. Quinto video di questo gioco, signori miei, prometto che dalla prossima settimana ci organizzeremo e torneranno anche altri gameplay, promesso, promesso. Per ora mi sono un attimino fissato, però non lo lasciamo, Brawl Stars, non lo lasciamo. Allora, signori miei, prima di partire con questo nuovo episodio, allora io ieri ho giocato un pochino off camera, no scusatemi, prima di partire col gameplay io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per le richieste di amicizia che vedo c'è un 5 di bellissimo, ora andremo ad accettare tutte le amicizie così ripeteteli di e chi vuole aggiungermi mi può aggiungere. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, sia su Facebook che su Instagram e se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni potete farlo, trovate il tutto nel link in descrizione. Detto questo partiamo con il video. Allora ragazzoli, prima cosa da fare, andiamo a vedere queste richieste di amicizia, allora, RXR Valeria, ok, accetta che c'è 10.000 coppe, GX Andrea 22.000, 16.000 coppe, perfetto, Kotiko 147 coppe, ottimo, QTY accettiamo 16.000 coppe, bravissimo, e Heracle Club 859 coppe, perfetto, sono l'unico che fa schifo praticamente, l'ID lo vedete a sinistra ragazzoli, chi vuole inviarmi la richiesta di amicizia lo può fare, poi vediamo eventualmente di poter, oh c'è Andrea online, vabbè, oggi non lo disturbiamo. Allora andiamo in negozio ragazzoli che vedo che c'è un qualcosa di gratuito, ma non so cosa ci sia di gratuito, 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 oh perfetto, raddoppi aggettoni, bella così, e questo ce lo siamo presi. Poi, ieri ho detto che ho giocato ragazzoli e siamo arrivati a sbloccare un altro pass, cassa enorme, vediamo che troviamo in questa cassa raga, e poi andiamo a giocare. Allora, oh, 76 ma niente d'oro, bella così, punti di energia per Shelly, bella grande Shelly, e punti di energia per Pocho, 70 punti di energia per Pocho, porca miseria, possiamo migliorare Pocho, bella così. Allora andiamo a migliorare Pocho, signori miei, il nostro messicano pazzo, va bene, questo l'abbiamo fatto, andiamo a migliorare il nostro messicano pazzo, migliora, migliora, bella così, grande. E oggi, signori miei, tradiamo Shelly perché voglio giocare col pistolero, sì, sì, voglio provare il pistolero, signori miei, andiamo con la raffa gemma, dagli così, dagli così, signori. Prima partita della giornata, col pistolero, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di interessante. Ok, partiamo subito dall'avventura, dagli pistolero, non mi tradire, non mi tradire pistolero, ho scelto te, e questo? Come si è permesso di pregarmi la gemma? No, 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 cortesemente, non moriamo. No, sono morto, ma porca di una paletta ambriaca, ma i miei compagni di scuola che fanno? Dormo, no? Dico, dobbiamo raffare gemme, ragazzi, non stiamo qui, sono morto subito, no, ma il pistolero fa schifo, ragazzi. Cioè, vedo già, hanno tre gemme, non ne abbiamo neanche una sola. Allora, dico, di che stiamo a parlare? Dai, scappa, scappa. Siamo messi male, ragazzi, siamo messi malissimo. Questi ci stanno a fare il fondoschiella con le strisce. Perché questo sta fermo lì? Perché sta fermo lì, porca miseria? Ai, 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 scappa, scappa, scappa. Ok, abbiamo una gemma, abbiamo una gemma, questo c'è qualcosa di interessante. Abbiamo una gemma, questa ne ha sette. No, 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 no. Otto gemma uno, raga, otto gemma uno. Prima sconfitta in un video. Nove gemme, siamo morti male, siamo morti malissimo. Siamo morti, devo uccidere a quello che forza, conto alla rovescia. No, 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 acqua, ce l'hai dietro, ce l'hai dietro, porca miseria. Ce l'hai dietro, ce l'hai dietro, uccidilo, 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 uccidilo. No, era morto. Sette, devo uccidere a quello là. Dai, 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 dai. Tre, due, uuh, niente, abbiamo perso. Ma porca miseria, raga, niente. Il pistolero non mi convince più di tanto. Porca miseria. Prima sconfitta in diretta. Prima sconfitta in diretta. Esperienza 2, 4, 3, 40, vabbè. Niente, il pistolero mi ha un pochetto deluso. Va bene. E non ci chiamo di nuovo. Bisogna dargli fiducia, raga, bisogna dargli fiducia, sennò il pistolero... Te, 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 te. Ci rimane male, ci rimane male il pistolero. Dai, 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 dai. O forse questi particevano di più. Quelli di prima erano molto addormentati come compagni di squadra. Recupera subito la gemma. Bella, questa la prendo io. Bella, così. Stiamo calmi, conquistiamo la zona delle gemme. Uccidiamo questo. Bello, così. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Recuperiamo le gemme. Gemme, gemme, gemme. Mi servono le gemme. Le gemme, le abbiamo prese 50, abbiamo 4 a 0. Dai, così, dai, così. Difendiamo il pozzo. Difendiamo il pozzo. 5 gemme, grande. Grande, grande. Il pistolero, il pistolero. Il messicano pazzo. Il messicano pazzo. L'abbiamo ammazzato forte così. Recupera, 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 recupera. Vite. Oh, se devi levare da qua. No, 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 no. Che l'acido, che l'acido. Abbiamo solamente 2 gemme. Siamo a 7. Dai, 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 dai. Quello, ovviamente, sei piazzato lì. Me ne sta fregando tutte lui le gemme. Non porca mi sei. Se evita anche di morire, sarebbe già tanta roba. No, 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 no. No, siamo morti. Abbiamo perso le 2 gemme che avevamo. Dai, dai, dai. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Dai, dai, dai. Pistolero. Mi dato dei sovrannomi da poter dare ai miei giocatori, raga? Mi suggerite dei sovrannomi per i miei giocatori? Quello ne ha 2. Quello ne ha 2. Devi morire. Devi morire. Devi morire. Devi morire. Devi morire. C'è l'acido 1. No, sono morto. Abbiamo perso tutte le gemme. Come abbiamo perso? Contro la ruiccia per la squadra rossa. Ma che stai a dire? No, ma stiamo a vincere noi. No, ci hanno rubato tutte le gemme, raga. Dai, ma non si fa così. Non si fa così. È quello che ci dà il pistole. Il pistole ha ucciso. No, non ci credo, raga. Stiamo a vincere. Stiamo a vincere. Siamo morti così. No, ma che delusione. Ma che delusione. Ma che delusione terribile. No, no. Ci vuole la terza partita, raga. Terza partita. Terza partita. Dai, il pistole. No, è impressionante. Stiamo a fare schifo il pistolero. È bello che ho detto lo cambio. Così faccio stragi. E invece il pistolero mi staffa schifo. Allora, dai, 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 dai. Bello, c'è, 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 bello, c'è. C'è già una gemma là, ma se la sono presa loro. Va bene, va bene. Uh, l'hanno recuperata, l'hanno recuperata la gemma. Siamo morti. Porca miseria, una gemma è uno, una gemma è uno. Dai, 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 dai. Dai, dai, abbiamo il supercorpo. Abbiamo il supercorpo, abbiamo perso le gemme. Allora, qui dietro ce n'è uno che ha due gemme che deve morire male subito. Uccidilo, uccidilo. Grande. Ricopro la gemma e scappa. Ricopro la gemma e scappa. Scappa, 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 scappa. Uh, lì ce n'è una. Recupera, recupera, recupera. Bella così. Ok, siamo in possesso di gemme. Questa è una cosa molto importante. Uh, un'altra gemma, un'altra gemma, un'altra gemma. Ok. Siamo tre gemme, la vita l'abbiamo recuperata. Ok, calma, calma. Dai che questa ce la portiamo a casa, dai che questa ce la portiamo a casa. Otto gemme. Dai così, dai così, dai così. Tu devi morire male, tu devi morire male. Tu devi morire male. No, 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 no. No. No, abbiamo perso tutte le gemme. Ma perché facciamo queste figure, vaga? No, nove gemme. Sono al contro la rovescia. Dobbiamo ucciderli. Dobbiamo ucciderli male. Dobbiamo ucciderli tutti. 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 Bella così. Regola da le gemme. Regola da le gemme. Siamo al desci. 7, 8, 9 Dai, 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 contro la rovescia Scappa, scappa zio, scappa zio Non andare in battaglia, brutto scemo che ti ammazzano No, 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 no 10 gemme precise, 10 gemme precise Scappa, uh, guarda la quanti ce n'è Guarda la quanti... 7, porca miseria L'abbiamo perse tutti Ma io sono morto, no Sì, 13, dai, 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 sono tutte mie, sono tutte mie Tipo solamente difendermi Dai, 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 dai Conta la rovescia, conta la rovescia Dai, 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 dai Dai, 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 dai 4, 3, 2, 1 Oh, perfetto, abbiamo vinto Quanto meno una l'abbiamo vinta, raga Quanto meno una l'abbiamo vinta Bella così Il migliore è stato Jelly Philips Va bene L'importante è che ne abbiamo portato una a casa Bella così Bella così Stelline, punti totale, punto aggettone Va bene Quelle sono arrivate là Queste sono arrivate qui Siamo a 238 Va bene, ragazzoni Per questo video io direi di fermarci qua Il pistolero è andato bene E niente, io che dirvi Vi ringrazio di aver guardato questo video Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video Bella raga Ciao 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 Grazie a tutti.